Siamo a Trucazzano, il campionato regionale Lombardi, segno amatori, medaglia d'oro, Sara Gramegna. Com'è stata questa campionata? Direi molto emozionante sicuramente, non mi aspettavo un risultato del genere, anche perché la mia cavalla è un po' particolare, a volte mi fa un po' degli scherzi e questa volta invece si è comportata molto bene. Poi purtroppo l'anno scorso ho avuto una brutta esperienza, che sono arrivata qua e la cavalla era zoppa e non ho potuto partecipare, e quindi ci siamo riscattate un po'. La tua cavalla, visto che l'hai nominata, è un nome impronunciabile, come la chiamate? Sì, il suo vero nome è di Stelblut, ma per gli amici è strega, visto il suo carattere particolare, è decisamente più simpatico. Dove monti e con chi? All'associazione Piccatore dei Gelsi a Sedriano e la mia istituzione Cecilia Banfi. Bravissima naturalmente. Sì, anche perché abbiamo conquistato il primo e il secondo posto oggi, quindi direi molto soddisfacente. Grazie mille, complimenti per la tua medaglia. Grazie mille, buona giornata.